Ben ritrovati amici di Youtube. Oggi vi parlerò della guerra dei cent'anni, guerra nella quale gli inglesi si contendono la corona di Francia. Questa lunga guerra iniziata come lotta dinastica diverrà presto una guerra rivolta alla conquista di territori francesi molto importanti per gli inglesi, come l'Aquitania o se preferite Guyenne e le Fiandre. Il nome Guyenne deriva infatti dal latino Aquitania. Questo territorio sud-ovest della Francia confinava con la Spagna e aveva una posizione strategica per il commercio navale europeo. Le Fiandre invece erano importanti perché l'Inghilterra era la principale importatrice di lana. Premesso che i re inglesi discendevano dalla corona francese, il problema iniziale del conflitto si pose nel momento in cui il re di Francia, Carlo IV, muore senza lasciare i credi. Alla corona francese si candida Edoardo III, nipote del re di Francia. Ma questa scelta sarebbe stata troppo semplice oltre che sconveniente perché in questo modo la Francia sarebbe divenuta vassalla degli inglesi. La corona francese passò così a un cugino di Carlo IV, Filippo IV, della casata di Valois. La guerra dinastica divenne presto una guerra di conquista da parte inglese. La Guyenna era già sotto il dominio inglese dal 1188, ma accadde che il nuovo re francese Filippo di Valois accusò Edoardo III, figlio di Edoardo II, di mancare suoi doveri di vassallo in territorio francese. Così gli tolse la Guyenna, l'unico ducato rimasto in mano agli inglesi. Gli inglesi, oltre a rivendicare la parentella diretta con i capi etingi per la pretesa corona francese, avviarono la guerra dei cento anni per riprendere possesso dei domini in terra francese. Inoltre l'Europa del Trecento era stata vittima di tanti sfortunati eventi come la piccola era glaciale che aveva ridotto i raccolti, la peste nera portatrice di morte, l'indebitamento a causa delle guerre con la crisi delle banche. Fattori gravi che portarono gli inglesi a pensare che la guerra potesse essere un mezzo per farli uscire da queste criticità. Dividerò questa lunga guerra per comodità in quattro tappe. Aggiungo una premessa prima di iniziare. La guerra vide due tregue, una di nove anni e l'altra di ventisei anni. La prima tappa, chiamata anche Guerra Edoardiana, venne a dominare gli inglesi. Troviamo Edoardo il principe nero, figlio del re inglese, che vince la prima battaglia e riesce a catturare il re di Francia Giovanni II. Questa guerra viene eseguita dal trattato di Bretigny, dove il re inglese Edoardo III rinuncia alle pretese della corona di Francia, a patto di conservare la Guyenna, il porto di Calais e ottenere il pagamento di 4 milioni di scudi. Il patto tra inglesi e francesi a seguito del trattato di Bretigny viene rotto. Entra in gioco un nuovo re inglese che riprende le pretese sulla corona francese. Il re in questione è Enrico IV. Si riapre il conflitto. Da questa fase in poi della guerra aumenta il numero dei morti perché ci sono ad esempio arcieri professionisti e si usano per la prima volta le armi da fuoco, gli archibugi. Ora gli eserciti sono composti da professionisti ben allenati alle guerre. È con il figlio di Enrico IV, Enrico V, che gli inglesi ripartono all'attacco nella battaglia di Asincourt. Gli inglesi vincono, occupano Parigi e ampi territori a nord-ovest della Francia. Sarà la regina francese Isabella che interverrà per trattare con gli inglesi proponendo un matrimonio tra sua figlia Caterina di Valois e Enrico V. Lo scopo del matrimonio era quello di creare una doppia monarchia per i figli che avrebbe avuto la coppia. Ma la corona francese in realtà aspettava di diritto a Carlo VII, figlio di Carlo VI. Solo che Carlo VII fu ritenuto indegno a succedere, poiché aveva ucciso il duca Giovanni senza paura. Il re assassino Carlo VII aveva però i suoi sostenitori e venne eletto nuovo re di Francia. Gli inglesi videro saltati i patti e ripresero le armi, assediarono Orléans e costrinsero alla ritirata verso sud di re di Francia Carlo VII. Eccoci arrivati alla fase conclusiva della guerra. Una giovane contadina analfabeta, Giovanna d'Arco, che come la stessa sosteniva, era inviata da Dio, si mise alla testa di un esercito di 4.000 uomini per cacciare gli inglesi da Orléans. Il comando le venne dato dal delfino di Francia Carlo di Valois, futuro Carlo VII. Le truppe di Giovanna ruppero l'assedio inglese a Orléans. Dopo questa vittoria, le truppe francesi, piene di entusiasmo, riportarono altre vittorie. Giovanna era decisa a cacciare gli inglesi da tutta la Francia, ma il re di Francia non sostenne Giovanna. Il re di Francia pensò di avviare un trattato ad Arrà, tra Borgognoni, Lussemburghesi e i Savoia, per riportare un ordine interno al territorio francese. Giovanna continuò a combattere, catturata dai duchi di Borgogna, venne consegnata agli inglesi, condannata per eresia e stregoneria e messa a rogo. Mentre il re di Francia trattava ad Arrà, la questione con gli inglesi era ancora aperta. Nella battaglia di Castillon del 1453, i francesi riuscirono a cacciare gli inglesi, riprendendo il controllo della Guyenna e Normandia. Agli inglesi rimase il controllo del solo porto di Calais. Nonostante questa battaglia, le ostilità tra francesi e inglesi durarono ancora per lungo tempo. Prima di salutarvi aggiungo che durante questi cento anni di guerra, Papa Gregorio XI riporta la sede papale da Avignone a Roma. Per complicare le cose ci saranno due papi, o meglio un papa e un antipapa. Parliamo dello scisma d'Occidente. Il papa di Avignone era riconosciuto come tale da francesi, castigliani e scozzesi. Il papa di Roma era riconosciuto tale dal Sacro Romano Impero e dagli inglesi. Il concilio di Costanza del 1415 ricomporrà la questione. Termina qui il video di oggi. Grazie amici e alla prossima da Giacomo.